Siamo con Livio Genesio, sindaco di Monforte. Questa settimana si può dire che i samurai sono arrivati a Monforte. Sì, una novità del territorio della Langa è stata proposta dal maestro Michele Gravina di fare un po' di arti marziali sul territorio. Abbiamo accettato volentieri questa iniziativa che è una cosa nuova e quindi ci fa piacere averli ospitati questa mattina a Monforte. Ecco, questo è uno dei tanti appuntamenti culturali che ci saranno nel mese di settembre qui a Monforte. Sì, fa parte di uno degli intrattenimenti, una cosa nuova, una novità d'eccellenza che arriva sul territorio a Monforte. Ecco, cos'altro ci sarà questo mese qui a Monforte? Questo mese qui inizierà la filodiffusione all'auditorio Morzowski per 3-4 ore, il venerdì, sabato e domenica. Ci sarà la musica di sottofondo degli artisti, musicisti passati nei 43 anni. Fino a fine anno si potrà sentire e farsi coccolare dalla musica di Monforte in jazz.